Sono Clara da Porta dei Venti, è una piccola azienda a condizione familiare a Montalcino. Mi trovo a sud di Montalcino, nella zona delle Terre Rosse. È un angolo molto vocato dal vento, come prende il nome poi la piccola attività, Porta dei Venti. Questo ci permette di far sì di avere sempre delle uve molto sane e su questo è la nostra forza, è il nostro punto di forza. In questo siamo biologici ma non si è rivendicato la certificazione, anche perché non siamo più molto giovani e quindi non ci aiuta molto la certificazione iscritta. Molto biologici perché questo punto con i venti ci permette di fare pochi trattamenti, pochi concimi e tutto in maniera abbastanza naturale. Il prodotto viene portato in cantina molto sano, da raccolta manuale. Tutte le nostre lavorazioni sono fatte manuali, compreso le cimature delle viti in pianta verde, compreso la sfogliatura della vite, sono tutti passaggi fatti da persone manuali. La raccolta viene fatta con la zocca integra, viene portata in azienda, viene riscelta nuovamente, portata in botte con il chicco integro. A secondo delle annate, purtroppo a secondo delle annate abbiamo delle vinificazioni più o meno lunghe. In un'annata molto sana la nostra vinificazione è molto lunga, a volte si arriva anche a 42 giorni, 36-42 giorni. Le temperature sono temperature controllate, naturali fino a 28-30 gradi, dopodiché sono controllate. Generalmente non ce n'è la necessità perché finisce prima. Comunque i nostri prodotti li lascio assaggiare a chi ho davanti perché il prodotto è come in vigna arriva nella bottiglia. Le lavorazioni in cantina sono molto limitate e molto nel rispetto del prodotto naturale.